Ancora incubo da meningococco in provincia di Arezzo, dopo il dramma della 21enne stroncata in sole 24 ore da una meningite fulminante, un altro caso sempre in Valdarno. Questa volta non si tratta però di meningite, ma di una forma di sepsi da meningococco C colpito un 57enne valdarnese già fuori pericolo. È stato tipizzato anche il meningococco, è un meningococco di tipo C, quindi comunque diverso dal caso che purtroppo ha avuto un esito in fausto della ragazza del Valdarno di un paio di giorni fa dove il meningococco era un meningococco B. L'uomo non vaccinato ieri aveva manifestato febbre e segni sulle gambe. Praticamente ha avuto un accesso al pronto soccorso per motivi suddetti con febbre e malessere generale, non aveva decadimento cognitivo e quindi interessamento neurologico con la comparsa progressiva di piccole petecchie che sono in questi casi un campanello d'allarme che sono stati ben interpretati dai colleghi del pronto soccorso per poi essere valutati dallo specialista che a quel punto ha fatto una diagnosi clinica e tutti gli accertamenti che poi sono stati messi in atto hanno confermato anche la diagnosi eziologica di laboratorio. Il 57enne in buone condizioni è ricoverato presso il reparto di malattie effettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. La precocità del trattamento ha garantito questo. Generalmente noi trattiamo il paziente con antibiotici per sette giorni per cui se non ci sono complicanze il paziente tra una settimana potrà essere tranquillamente dimesso. È ovviamente già scattata la profilassi per i contatti più stretti. Per ridurre la possibilità ovviamente per queste persone di sviluppare un quadro clinico che possa essere quello di una meningite o di una sepsi meningococica.